Paratie del lungo lago di Como, la vista del lago non si perderà, parola dell'assessore ai lavori pubblici di Palazzo Cernezzi, Vincenzo Bella. Passeggiando in via Vittorio Emanuele o in via Aluini, la visuale sul lago resterà inalterata. In sostanza il panorama non sarà modificato dalla costruzione dell'opera. Le differenze inizieranno invece a farsi notare avvicinandosi al lago. Ieri sera in Consiglio Comunale un intervento del consigliere di svolta civica Vittorio Onesti ha sollevato il dubbio sulla possibilità che l'ultimo progetto per completare l'opera potesse in qualche modo precludere la vista del lago. Quando sarà terminato il cantiere delle Paratie, coloro che guarderanno il lago da Piazza Grimoldi lo vedranno parzialmente coperto. Questo perché la passeggiata al lago sarà più alta di 60 cm rispetto al marciapiede di Piazza Cavour. Chi passa in macchina l'occhio sarà a quota 199,60 cm, quindi più alto del bordo, e chi è in piazza davanti al broletto sarà 2,40 m più in alto, seduto su un tavolino accanto al broletto. È chiaro che più andiamo indietro più queste quote crescono, anche se leggermente. I responsabili di infrastrutture lombarde lo scorso ottobre alla presentazione del progetto delle Paratie alla cittadinanza avevano garantito una protezione fino ad una quota di 240 sul livello del mare. Al momento il progetto, in attesa di essere aggiudicato, il bando pubblicato all'inizio del luglio scorso prevede 1.030 giorni di lavoro e da un valore economico di 13 milioni di euro. Il completamento del cantiere, se non ci saranno intoppi, è previsto per il 2022. Grazie a tutti.